E' la Toscana la prima regione a partire con il progetto nazionale Italia Wi-Fi che ha l'obiettivo di mettere a sistema le reti esistenti creando una modalità di autenticazione unica per tutto il paese. La firma dell'accordo tra regione e ministero dello sviluppo economico si è tenuta a Firenze in Palazzo Sacratistrozio un progetto che mette sul piatto quindi i più aspetti tra cui quello turistico cercando da una parte di facilitare l'accesso alla rete internet e dall'altra di fornire servizi digitali ai viaggiatori. La sperimentazione spiegano dalla regione partirà dalla Versilia per poi proseguire anche sulla via francigena. La Toscana su questo scommetterà politiche, professionalità e risorse. 200 mila euro sono stanziati per l'intervento nell'area della Versilia. Prendiamo un impegno in accordo con il Binsie di un percorso triennale almeno nel quale questa prima apertura, la connessione tra le reti Wi-Fi presenti e le nuove vie d'accesso che noi metteremo a disposizione possa declinarsi in tutte le sue opportunità. Giacomello è poi ricordato che dopo la Versilia c'è già la disponibilità dei comuni di Firenze e Prata a proseguire la sperimentazione così da porre anche le basi per la costruzione di un ecosistema dei dati del turismo. È la prima a partire anche in questo progetto, che è un progetto pilota a livello europeo. L'idea di costruire una rete nazionale Wi-Fi. È esperienza di tutti. Se si fa un viaggio che attraversa diversi comuni, ogni volta bisogna riconnettersi con modalità diverse alla rete Wi-Fi del singolo comune. Noi costruiamo un sistema che semplicemente utilizzando un'app consente di essere connessi ovunque nel territorio nazionale. Federiamo le reti esistenti e interveniamo a costruire la rete dove non c'è. Adesso l'obiettivo, dopo una prima sperimentazione, è quello di allargare il progetto a tutta l'Italia, coinvolgendo reti pubbliche e private. Un'Italia quindi più moderna, connessa e aperta, a partire proprio dalla Toscana. È un progetto fondamentale per molti aspetti, uno su tutto il turismo. Noi non abbiamo ad oggi una fotografia esatta del flusso turistico nel nostro paese, di quali sono i percorsi e gli interessi dei turisti. Noi avremo così quello che si chiama un embrione di big data sul turismo nel nostro paese, con la possibilità di offrire servizi, dare informazioni, essere insomma padroni del nostro destino in un ambito importante. Quindi mi fa piacere che la Toscana sia esattamente la regione che apre questo straordinario progetto.